Alla 56esima edizione di Amici di Brug, VH Italia e Saratoga si presentano oltre che con molte novità di prodotto con un importante progetto che le vede assieme protagoniste sul mercato in questo momento particolare dove sicuramente idee nuove e innovative servono per dare nuovi stimoli sia alla distribuzione che i nostri partner, i dentisti che utilizzano i nostri prodotti e le nostre soluzioni tutti i giorni. Di fatto nasce oggi una collaborazione che vede la forza vendita VH promuovere e proporre anche il marchio Saratoga sul mercato italiano questo nell'ottica di fornire non solo singoli prodotti ma soluzioni integrate che devono aiutare il dentista nel suo lavoro quotidiano fornendo soluzioni per il lavoro di tutti i giorni che soddisfi quelle che sono le richieste dei più alti standard qualitativi e normativi che oggi servono per il lavoro di tutti i giorni. Un esempio è il mobile di sterilizzazione che è concepito e pensato e si integra perfettamente con i prodotti della linea di sterilizzazione di VH. In questo modo il protocollo di igiene, manutenzione e sterilizzazione degli strumenti riesce ad avere un ciclo perfetto dalla fase di pulizia alla fase di sterilizzazione utilizzando un supporto, un mobile che ha tutti i concept per un lavoro ottimale nello studio. Il connubio delle due aziende nasce da un'idea e da un progetto di VH Italia assieme alla famiglia Bortolus che da sempre gestisce e gestisce ancora l'azienda Saratoga che vuole proporre sul mercato non solo prodotti ma anche soluzioni e progettualità all'interno dello studio. Sicuramente uno dei punti fondamentali, una delle sfide che ci aspettano è riuscire a trasferire tutto questo al mercato e soprattutto alla distribuzione che rimane il nostro partner principale in questo ambizioso progetto. Un progetto nuovo, innovativo ma siamo convinti che solo con sfide nuove e portando novità si riesce a affrontare questo momento difficile di mercato e assieme possiamo affrontarlo sicuramente meglio che rimanendo ognuno chiuso nei propri recinti. Assieme a Saratoga e a VH Italia oggi sul mercato c'è un protagonista nuovo in grado di offrire soluzioni nuove, innovative, un servizio vincente e una progettualità di sicuro interesse per tutti gli operatori del settore.